Ciao a tutti! Allora, vi voglio un attimino fare un resoconto della mia giornata milanese di ieri, cui sono andato per incontrare l'amico Marco, ma anche perché volevamo fare qualcosa che è proprio da appassionati, vale a dire andare a qualche mostra di fumetti. Ieri a Milano abbiamo intercettato due diverse manifestazioni inerenti due personaggi del mondo del fumetto italiano, molto diversi fra di loro, tra l'altro non della stessa casa editrice, ma che in qualche modo comunque ci interessano. Diabolic e Marty Mister. Ora, per quanto riguarda Marty Mister, sapete benissimo come io sia un grande appassionato del personaggio, ne parli frequentemente sul canale, tutti i mesi comunque, perché continuo ad acquistare la serie, a collezionarla, sapete insomma bene tutto. E c'era la possibilità di visitare gratuitamente al UAU, che è il Museo del Fumetto Italiano, che si trova in Viale Campania, o via Campania, comunque lì, una mostra gratuita dedicata a Giancarlo Alessandrini. Erano esposte alcune tavole originali, prese da alcune storie recenti di Marty Mister, dallo speciale 38, da un maxi e da un albo, credo il 375, 376, comunque storie abbastanza recenti. Ora, io non sono un grande appassionato di tavole, c'è tutto un mercato collezionistico dietro, non ne possiedo, non mi interessa al momento come collezionismo, però sinceramente quando hai la possibilità di vedere davanti a te un disegno originale dell'autore, che magari conosci, perché tra l'altro io Alessandrini ho avuto modo di incontrarlo personalmente, in un incontro, fiera, evento organizzato dal comune di Bivona, in provincia di Egrigento, nel 1999, in Sicilia ho anche il posto erotografato, in cui si univano diciamo cultura e cucina, perché c'era la saga delle arance di Bivona, che sono molto famose perché sono parecchio grosse, e in concomitanza c'era questa mostra dedicata a Giancarlo Alessandrini, che faceva anche le firma copie, quindi io l'avevo già incontrato in quella sede. Ieri lui non era presente, c'è stato domenica scorsa, lì al Wow, ma per vari motivi non stiamo potuti andare prima, e quindi siamo andati ieri. C'erano queste tavole molto belle, dicevo, perché le tavole originali sono comunque affascinanti, si vedono le modifiche che sono state fatte, oppure gli sfondi neri colorati, come sono stati colorati a mano, eccetera eccetera, però fondamentalmente era solo questo, c'erano una decina, quindicina di tavole in questa stanza, ma era gratuito e quindi va bene così, se avessi dovuto pagare sarei rimasto molto deluso, ma non dall'autore, ma dalla quantità di opere esposte. Però se vi capita di essere a Milano o abitate a Milano, fino al 4, credo al 5 di maggio, è possibile visitare gratuitamente questa mostra al piano terra della struttura. Sopra c'è una mostra a pagamento, ma lì poi cambiano di volta in volta. Io tra l'altro ci sono già stato il Wow due anni fa, con cugino Giuseppe, quando andammo al compleanno del Ferrocastelli che si svolse il giorno dopo, la domenica, e il sabato andammo lì, ma non ricordo cosa andammo a vedere, però c'era qualche mostra anche in quel momento. E quindi questa è la prima cosa. Tra l'altro, all'ingresso di questo Wow c'è la parte in cui vendono degli albi, e ho trovato tra gli albi italiani, Bonelli, Disney, non solo, anche dei manga, e ce n'è uno che mi ha colpito molto. Non l'ho acquistato, vi premetto non l'ho comprato, perché comunque non mi sento di acquistare, per i motivi che sapete, ossia Collezionismo di Topolino, ma anche perché comunque il manga è un mondo a me totalmente sconosciuto e avulso, non ne ho mai letto, però, dando un'occhiata a questa opera, di cui non vi parlo perché voglio tenere un po' di suspense, mi ha colpito molto. E infatti sto cercando di procurarmela, anche tramite i prestiti bibliotecari, perché ho visto che è disponibile in zona, e la voglio leggere, e se è il caso ve ne parlerò sul canale, perché ho capito da appassionato di fumetti, e appunto fare le mosse serve anche a questo, come comunque bisogna allargare i propri orizzonti, questo non vuol dire che domani comincerò a comprare manga o chissà che cos'altro, anche italiano, però è giusto che anche a livello di conoscenza personale e di fruizione, si possa un appassionato come me da quasi 40 anni, è giusto che possa spaziare un po' ovunque. E quindi, se capiterà, ne parlerò, lo leggerò e poi magari ve lo porterò sul canale. Ovviamente da persona totalmente strana al mondo dei manga, quindi è possibile che dirò anche delle sciocchezze, ma lo scopriremo. Altro motivo, che poi è stato quello principale, in realtà noi saremmo dovuti andare per Alessandrini, però poi Marco mi ha detto, vedi che fino al giorno 24 di aprile, quindi fino a oggi, quando registro, c'è anche una mossa dedicata a Diabolic. È fortuna che c'è stata questa Diabolic, perché nonostante sia piccola, però è stata interessante. Se fossimo andati solo per Alessandrini, ripeto, non per lui, ma per la quantità di materiale esposto, sarebbe stato veramente deludente. Comunque, ad ogni modo, un giro a Milano ci sta sempre, siamo andati, abbiamo fatto una passeggiata in una stanza piovesse, e quindi va bene così. Tra l'altro il treno a ritorno, ho rischiato di perdere la coincidenza per Lugo, sono arrivato a casa a pezzi, ecco il motivo per cui è stata stancante la giornata. Comunque, dicevamo, Diabolic. Fino ad oggi, fino al 24 di aprile, alla stazione ferroviaria di Cadorna, in uno dei locali dedicati al deposito dei bagagli, appositamente allestito, è disponibile una piccola mostra, nel senso che è piccola di invenzioni, dedicata appunto al personaggio e al suo rapporto con la stazione Cadorna. Perché? Perché Diabolic nasce nel 1962 su un'idea delle sorelle Giussani che, avendo il loro ufficio nella prossimità della stazione Cadorna, in una via lì adiecente, vedevano questi pendolari che continuavano a fare su e giù da Milano, perché la stazione di Cadorna collega la parte nord della Lombardia e quindi anche la Svizzera con la città di Milano, quindi che arriva da Como, da Varese, arriva a Cadorna. E quindi le due donne vedevano tutti questi pendolari che arrivavano nella città più produttiva d'Italia. E allora hanno avuto l'idea di creare un fumetto in formato pocket e che fosse di, diciamo, di facile fruibilità per adulti, destinato a chi venisse, facesse il pendolare e che lo leggesse nel tragitto tra la stazione di partenza e la stazione di arrivo. E quindi la stazione di Cadorna è il cuore stesso, l'idea stessa della vita di diabolic. E allora per festeggiarlo è stata creata questa mostra in cui venivano esposte un po' di fotografie, alcune le anche pubblicate sulla community, c'erano le classiche tavole in cui spiegavano come è nato il personaggio, la colorazione, i retinati, e vi chiedevo cosa fossero, i retini, insomma, è tutto quello che è. C'erano anche delle foto delle sorelle Giussani, una copia anastatica del numero uno del terrore e qualche altra cosa. E in più veniva regalato gratuitamente appunto questo albetto, che si chiama Diabolic e il segreto di Cadorna, in cui viene spiegato all'interno un po' quello che vi ho detto, quindi che cosa ha legato il personaggio alla stazione di Cadorna. E poi c'è questa breve avventura scritta da... vediamo... da qualche parte ci sarà scritto... di Mario Gomboli e da un'idea di Gianni Bono, copertina disegni Riccardo Nunziati e letting ed inventario Bologna. In questa storiella, storiella perché sono poche pagine, viene appunto, un po' come in quella che vi ho esposto, vi ho portato qualche giorno fa, qualche settimana fa, diciamo un furto che dovrebbe avvenire alla stazione di Cadorna, perché secondo la leggenda c'è un tesoro sotterrato che è stato riscoperto e Diabolic vuole rubarlo, ma alla fine lascia perdere perché il tesoro riguarda proprio il fatto che la stazione sia stata il luogo di nascita del fumetto. Quindi c'era una lettera o un manoscritto del vecchio direttore della stazione che diceva grazie a questa stazione è nato Diabolic, eccetera eccetera, lo ringraziava. Quindi è una sorta di metafumetto. Ovviamente è un albo celebrativo, niente di più, però comunque è scorrevole, l'ho letto piacevolmente sul treno anch'io in qualche minuto, e quindi sicuramente interessante. Dietro troviamo le sorelle Giussani. E poi, cosa ancora più significativa, veniva regalato anche questo piccolo De Plian, che oltre a raccontare meglio quello che vi ho detto io adesso, contiene al suo interno, e questo è veramente bello, scoprendo il foglio, la copertina, la cover del numero uno di Diabolic, e questo verrà appeso sicuramente. Quindi è stata una bellissima esperienza. Queste copie venivano distribuite gratuitamente, ce ne erano tantissime, quindi a scanso di equivoci, diffidate dagli speculatori, nel caso in cui metteranno a venderle su eBay, perché comunque non vale sicuramente 10, 20, 30, 50 euro. Un fumetto è un albetto interessante, però dal mio punto di vista non vale i soldi che chiedono. Poi non sono un collezionista di Diabolic, quindi magari qualcuno potrebbe dirmi che è importante, ma secondo me è una speculazione. Tra l'altro su Diabolic, perché me ne sto parlando ultimamente? Io ho letto tantissimi Diabolic negli anni 90. Il mio miglior amico, mentre io iniziavo la mia collezione di Dilan Dog, lui iniziava quella sua di Diabolic, aveva recuperato sia la serie inedita, la R, la prima ristampa e la Swiss, che era gli albori, e quindi stava tutti i mesi acquistava tre albi e ce li scambiavamo, perché lui piaceva leggere Dilan Dog, ma non lo collezionava, e io leggevo piacevolmente Diabolic, ma non lo collezionavo. Quindi negli anni 90, 150, 200 albi li ho letti, e mi sono piaciuti, interessanti, è mancato qualcosa in più che mi facesse scattare la molla del collezionarlo, perché fondamentalmente si tratta sempre di furti, però è una serie veramente valida, e non è detto che non possa recuperare qualche numero, quella, ma di questo ne parleremo in futuro. Poi in un futuro remoto non è detto che non possa provare magari a recuperarne di più, non dico la collezione, ma qualcosa in più. Quindi questo testimonia come comunque Diabolic sia un fumetto importantissimo nel panorama italiano, e quindi merita considerazione, soprattutto da una persona come me che comunque è appassionata di fumetto, al di là dei gusti personali, e come vi dicevo, qualche, diciamo, comparsata nel mondo dei manga non è detto che non la faccia pure. Detto questo, ovviamente l'esperienza è stata bella, il mio interesse fondamentale rimane sempre il mondo Disney Bonelli, questo sembra, diciamo, di troppo dirlo, ma è così, però aspettatevi che possa tornare a parlare di Diabolic, o di tante altre cose, perché no? Ad ogni modo, il video è dedicato alla giornata di ieri, bella giornata, un po' piovosa, faticosa, perché ci siamo mossi a piedi, perché avevamo voglia di farlo, siamo passati davanti al cazzello sforzesco, eccetera, eccetera. Sulle mostre, questa è Diabolic, nonostante sia piccola, ne è valsa la pena, secondo me è interessante. Quella di Alessandrini, abbastanza deludente, ripeto, non per l'autore, ma per la quantità di opere sposte, però, ripeto, Diabolic termina oggi alle ore, credo, 19, tra l'altro ieri è aperto anche un'ora in ritardo, se vi capita avete le ultime ore per andarla a visitare e prendete questa albetto. Quella di Martimister invece chiuderà i primi di maggio, quindi se vi capita di passar di là potete andarci, comunque è gratuita, perché no? Vi saluto e ci vediamo col prossimo video. Ciao!